Buonasera, benvenuti ad una nuova edizione di Spazio Professioni. Prima di passare alla rassegna delle notizie più importanti della settimana per i professionisti, vediamo l'intervista realizzata dalla nostra inviata su Roma, Giada Cuomo, che ha incontrato per noi il vice presidente di Confprofessioni, Roberto Caglioni, con il quale abbiamo parlato della situazione dei professionisti italiani, soprattutto in relazione alle novità degli ultimi provvedimenti legislativi. Dottor Caglioni, quali le difficoltà dei giovani professionisti e cosa dobbiamo aspettarci dal governo Renzi? Non certe uscite come quella recente sui minimi, che peraltro lo stesso Premier ha promesso di andare a correggere. Questa naturalmente è una provocazione, ma che vuole sottolineare come i giovani professionisti nel nostro paese di fatto non hanno avuto gli 80 euro, di fatto è un problema se si ammalano, di fatto per noi non c'è comunque la cassa di detrazione in deroga. Ora, tutti questi aspetti, per sottolineare in realtà un problema molto più vasto. Noi vogliamo sapere che cosa questi giovani devono fare, che cosa devono fare le famiglie a monte, se devono indirizzare ancora verso le libere professioni o cosa. Oggi portare avanti un giovane in professioni intellettuali costa, è un costo non solo per le famiglie, ma assolutamente per la collettività. E in tal senso quindi chiediamo alla politica di descriverci quale potrebbe essere o non essere il futuro di un libro professionista nel nostro paese. Questo per non alimentare aspettative sia dei giovani che, credo che sia un rispetto e dovuto alle famiglie degli stessi. Riforma del sistema di rappresentanza, cosa prevede? Ma innanzitutto bisogna capire se questo riguarda anche i sindacati di categoria in generale delle associazioni, piuttosto che non i sindacati dei lavoratori. Certamente se si vuole arrivare a eliminare una sorta di autoreferenzialità che impera nel nostro paese in tal senso e si vuole andare a certificare il numero di iscritti, certificare il bilancio e verificare l'effettiva diffusione sul territorio, allora ben vengano misure di questo tipo. Levata di scudi di imprese e professionisti contro il decreto ministeriale sullo split payment. Il meccanismo introdotto dalla legge di stabilità 2015, in vigore dal 1 gennaio, stabilisce che le pubbliche amministrazioni debbano versare direttamente all'erario l'IVA che è stata debitata loro dai fornitori acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA. Secondo quanto stabilito dal provvedimento, l'ascissione dei pagamenti però non si applica ai titolari di imposta sul reddito, una formula poco chiara che tuttavia dovrebbe escludere i professionisti soggetti a ritenuta da conto da questo meccanismo. Tuttavia, secondo quanto riferito dalle professioni tecniche, alcuni enti pubblici intendono applicare il meccanismo dello split payment anche ai professionisti, che invocano quindi un intervento urgente da parte del Ministero dell'Economia per chiarire la portata della norma. E ad esprimere perplessità sul meccanismo dello split payment è in particolare il Consiglio nazionale degli ingegneri, che reclama chiarimenti in merito. Nonostante le prescrizioni normative, afferma Armando Zambrano, presidente del Consiglio nazionale ingegneri, il nostro Consiglio ha ricevuto già nel mese di gennaio 2015 numerose segnalazioni di amministrazioni pubbliche che intendono applicare l'Istituto per la liquidazione dei compensi ad ingegneri per lavori debitamente svolti. In alcuni casi addirittura le amministrazioni intendono applicare il meccanismo anche in modo retroattivo, ovvero perversamentiva riguardanti attività svolte nel 2014. È evidente, ha concluso Zambrano, che tale situazione deriva dalla scarsa chiarezza della norma. A questo proposito ospichiamo un intervento urgente ed esplicativo da parte dell'amministrazione finanziaria. I professionisti che condividono spazi di lavoro, attrezzature, personale con un'associazione godono di esenzione IRAP pur restando come contribuenti persone fisiche e quindi autonoma organizzazione. Lo ha ribadito la sentenza della Cassazione numero 1662 del 28 gennaio. La pronuncia serve quindi a fare chiarezza su un concetto a lungo dibattuto in giurisprudenza e appare quanto mai attuale in considerazione del proliferare di forme lavorative e organizzative di condivisione, come ad esempio il co-working. Nel prendere atto che l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile il software Certificazione Unica 2015 solo il 5 febbraio scorso e che rispetto all'obbligo di trasmissione delle nuove certificazioni e delle ritenute non è possibile avvalersi dell'Istituto del ravvedimento operoso nel caso di errore o omissione nel rispetto dello Statuto del Contribuente, le associazioni del coordinamento unitario dei commercialisti chiedono a Ministero ed Agenzia di porre in essere ogni opportuno provvedimento per rendere gli adempimenti introdotti con il decreto semplificazioni attuabili nel rispetto della professionalità necessaria per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e pertanto di tener conto del ritardo con il quale sono stati resi disponibili i modelli di dichiarazione, le istruzioni e i software applicativi di controllo. Lotta aperta sulle competenze in ambito sanitario tra sindacati dei medici contro la norma contenuta nel comma 566 della legge di stabilità che in sostanza prevede che gli atti di prevenzione, diagnosi, cure e terapia non siano più di esclusiva competenza dei professionisti medici ma che essi tali restino solo se complessi e specialistici. Un nuovo paradigma nel governo delle competenze, quello introdotto dalla legge, che altera e rende volatili le regole secondo cui per i medici chirurgici restano esclusivi solo gli atti complessi e specialistici. Una chiave interpretativa considerata destabilizzante per tutti, con riflessi imprevedibili sulla determinazione dei fabbisogni, sui contenuti formativi, sulle loro funzioni e i compiti nelle organizzazioni pubbliche e private, sul mercato del lavoro medico e sanitario già devastato da fenomeni di sottooccupazione e disoccupazione. Geometri di base mobilitati in rete per difendere giovani e non dalle pretese della Cassa di Previdenza. A Roma il 26 febbraio si terrà la seconda manifestazione nazionale contro l'iniquità del sistema previdenziale dei geometri e per la difesa della categoria. Il sit-in è organizzato dai geometri della base per l'occasione riuniti sotto il nome di Geomobilitati. Nell'occasione saranno consegnate le firme relative ad una petizione online sottoscritta dai geometri liberi professionisti, i quali ritengono che gli aumenti in atto dalla Cassa di Previdenza Geometri per l'anno 2015, oltre che per gli anni a seguire, sono indiscriminati ed inadeguati all'attuale situazione economica che sta affrontando la professione in Italia intera. Debutto ufficiale per Charting, l'agenzia nazionale per la certificazione volontaria delle competenze, fortemente voluta dal Consiglio Nazionale Ingegneri. L'istituto sarà una leva per valorizzare l'esperienza degli iscritti agli albi, convalidandone la competenza acquisita in specifici settori, attraverso l'attività professionale esercitata in forma societaria, autonoma o subordinata. Si tratta di un organismo unico nel suo genere, dotato di un proprio statuto, nonché di uno specifico regolamento. La sua attività principale sarà certificare a livello nazionale le competenze degli ingegneri, anche in conformità all'obbligo di aggiornamento della competenza professionale. Il Ministero della Giustizia ha diramato lo schema di regolamento sull'accertamento delle condizioni per l'esercizio della professione di avvocato. Così vengono fissati dei paletti piuttosto rigidi, entro i quali potranno essere inclusi tutti i professionisti che si trovino in regola con i requisiti che figureranno nel decreto, il quale ora viene comunque sottoposto all'attenzione del Consiglio Nazionale Forense. Si tratta di un'uscita in attesa da parte del Ministro Orlando, che fa il paio con la riforma della difesa d'ufficio, approvata in Consiglio dei Ministri e pubblicata in Gazzetta Ufficiale nei giorni scorsi. Questa era l'ultima notizia di questa edizione, vi ringrazio per essere stati con noi e vi do appuntamento alla prossima settimana. Grazie a tutti.